Attenzione per le famiglie e le fasce più indigenti, chiarezza, trasparenza e recupero dei fondi europei non spesi. Queste alcune delle proposte che il clero Ipparino rivolge al nuovo governatore della regione Sicilia nei giorni del dopo voto. Una riflessione su come il presidente Crocetta possa dare una svolta ad una Sicilia affossata, appesantita da un esercito di dipendenti e dirigenti, ad una regione fatta di sprechi e poco attenta alla gente e bisogni dei siciliani. Attenzione alle fasce più deboli della società, attenzione al mondo del lavoro, Attenzione soprattutto a non sprecare le risorse con una burocrazia gigantesca che fa della regione siciliana la regione con il più alto numero di dipendenti in assoluto in Italia e di funzionari e di consulenti, il che significa concretamente spreco di risorse. Io dico l'impegno a fare chiarezza, a fare chiarezza. Se è vero come è vero che fonte europee che noi avremmo potuto spendere attraverso progettualità non sono state spese, si parla di 5 miliardi di euro. Io dico che è un'incoscienza, non possiamo avere la possibilità e poi non sfruttarla. Nonostante tutte le figure che sono state messe nella regione, si parla di 800 esperti, quindi di persone che avrebbero dovuto attraverso la loro competenza aprirsi a progettualità e quindi a realizzazioni. Se è così deve darsi una mossa. Io dico se c'è da lavorare 24 ore al giorno si lavora, se c'è da inventare si deve inventare, sollecitando le coscienze senza creare paraventi né ostruzionismi. Se c'è una persona anche diversa dalla mia ideologia, dal mio partito, che può dare un contributo, devo avere il coraggio di accettarlo. Per i due rappresentanti del clero nel territorio ebleo le parole del Cardinale Romeo sono veritiere, rispecchiano la realtà delle cose. È vero che la regione sprecona e che la presenza di 800 consulenti non ha fatto altro che appesantire l'amministrazione regionale. Quello che il Cardinale Romeo denuncia è vero, corrisponde a verità e bisogna partire da questa considerazione realistica della marea di problemi che investono oggi la regione siciliana. Indebitate e sprecona, secondo me, perché gli sprechi sono enormi, non per sentito dire, ma perché per esperienza personale. Sono debuttate così alla rinvusa, con parzialità esagerate, con favoritismi indescrivibili, con, ripeto, sprechi destinate spesso a ciò che non ha futuro, né verifica.